Allora, chi indovina di più vince un premio dopo. Ah, ho già capito com'è. Elfo! Sì. Sì, Elfo. Ehi, 1-0 per me! Fammi vedere. Bravo. Ma come si chiama? Elf. Ah, ok. 1-0. Eh, l'ho già capito. Eh, come si chiama questo? Chi è troppo brutto? Ah, il Grinch. Eh, si chiama. Bravo Ivan! Bravo Ivan! Complimenti! Eh, siete bravi, siete bravi. Eh, eh. Cosa lo spieghi bene? Animale! Così sembra Pinocchio. eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Dove schmerz? No. Eh, continuo, fai qualcos'altro. Eh, eh. Cosa? Cosa occhiali questi? Ah, ho... Christmas Carol? Bravo. Bravo Ivan! Eh... Eh, non lo conosco io, eh. Eh, non l'ho vista da noi. Eh, questa era difficile. Complimenti, no? Attenzione... una poltrona per due complimenti man, è tu bravo lui stai dormendo ancora sicuro che c'era da solo a casa la maglia del mio idolo che bella però la vorrei anche io grazie babbo anche per me babbo Natale e anche quest'anno Natale se lo siamo levati dalle grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti